Rock'n'Roll Jack Nicola Gabbas partiamo con un messaggio dice smetti la fila di guardare Barbara D'Urso e fai subito questa diretta subito ragazzi comunque veramente Barbara D'Urso è il programma più schifoso della televisione italiana cioè io qualche volta mentre giri che sei a casa ho provato a guardare ci passano ci passano degli elementi proprio di uno squallore di una tristezza umana di un'ignoranza di una troiagine che non ha limiti io Barbara D'Urso la metterei in galera a lei e a chi fa quei programmi veramente per spaccio di demenza li metterei in galera